Sia Figures, Fernando, L'esceva fuori dall'enna, L'esceva fuori dall'enna, L'esceva fuori dall'escorso, L'esceva fuori dalla forma per trovare la fosa. La Madonna, L'bambino, I tre re, Vengono pester con i suoi pastrici, Questa è la sosse del Nadel. L'esceva, Con i suoi buoni odori, Chau d'astua, A giovarder aquesta cripeles, Asnazer sia saor, Se ven da neif fantolins, Se pensa alla neif fora d'Aus, E alla senta famiglia, Mettuta giù d'intorn via quella piccola cuna. Se l'è velc che non ha tempo, L'è la cripela, Non perché non l'abbia data, Quella è quella del tempo di San Francesco, Ma perché non l'ha età, La passa fora d'utta la sazione della vita. E quella formes, Zipolèdes fora da Fernando, Mingol grovies, Mingol schichelles Che faceva il Jaff dell'Alpe Tip Popes, Les chiamano sentimenti De quiete e de pes, Coche volesse al Nadel cristian. E io credo che si senti il caro a Nadal, Il è molto bello, E io credo che si senti il caro a Nadal, E io credo che queste figure, Che lasciano andando, E io metto le mani in dà, a cipiarite e sentire quel buon odore, quel buon profumo del lente zirno. Io le figure mi piacciono molto le fare la cripella, l'antica, e le figure dicono sempre, perché sempre l'era che è stata la cripella, la vita della nascita del Signore Dio, e quindi non ci sono dei tiri, ma le figure sono molto belle che bisogna sbozzare fuori, lavorare fuori perché quella è stata la vita del Signore Dio. Con rispetto per questi secoli di zirno, Fernando, lavorare con mano segura la materia, dice che si passa via il tempo e che se lo faccia, trova anche il metodo di sapere dai cruzzi di Ducidissi, e lei deve creare, già che ti sia aperto, ti metto sia batteriaco che la chiamano e ora, se lo permette, si venne sormontati dal chaut e dalla corte, e a scandire il tempo, l'escrevedere del scherpelle vi da consegno dalla mano dell'uomo. Grazie a tutti! Mi ricordo molto dal verso che Ducidina dalla casa mia ha la barba, la barba Micella, la barba della Svizzera, e le portate queste cioccolate di Svizzera che ho, e le migliori bottiglie non erano una da trovare, non erano tre soldi, non erano di giorno, no? e dopo la mia madre, mi pare, le toccare sul pescello, o vinderò sul pescello anche l'amico più forte, no? E non credo che non si rispetta altro, che lui è trairezza, il potere che si disfaggeva, in quel dì si disfaggeva il pescello, non mi ha chiesto che un codicchio e che fin da Pasqua cerchi, no? All'altra non si vede allora se mai ha queste cioccolate che ha detto che vanno da fuori del mondo, no? Oh, you never shut your eyes! Appedea la figura, il bait, la feides, i tre re, tutto fatto con una fossa, che si faceva te l'accese, mingol schicca anche te la stua d'inverno e fa segno l'urea la piena, anche condì Fernando face la cripela, una brittola e qualche scherpelle, ma è di attenzione, mingol di amor per sé, mingol di voa defergire più piano la ruota del tempo, e il pensiero che l'uomo non è fatto di mo' per strusciare, ma per vivere. Per mio conto la cripela è quella molto e molto tradizionale, il bambino, il bo e il mouchat, il San Giuseppe e la Madonna, due o tre pastri, se così è piccoli pastrici, e che anche le via per due anni, se ci mette a piede, e ruare di tre re, per Pasca Tofegna, per il 5 di Genesco, che era una nostra tradizione. A presto! A presto! A presto! A presto! A presto!